bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi puntata numero 3 dei top 10 deck da usare nelle challenge nelle sfide ragazzi oggi abbiamo un deck molto molto particolare molto molto particolare da far girare ma allo stesso tempo molto divertente voglio non tenervi sulle spine ragazzi andiamo subito a vederlo eccolo qua lo vedete ariete da battaglia fuori legge zap estrattore di elizir orda di sgherry gang di goblin spirito del ghiaccio e 3 moschettieri sono le 8 carte che vanno a formare il nostro deck di oggi come vedete ragazzi lo avete già capito sicuramente abbiamo due push principali che sono la riete da battaglia e i tre moschettieri ovviamente dobbiamo cercare di proteggerli per poter sfruttare al meglio la devastante potenza di fuoco di questi tre infamoni che fanno veramente veramente tanto male ovviamente il tutto può essere realizzato con l'estrattore di elizir che va cercato di essere che va cercato di essere posizionato si credo sia un italiano giusto di essere posizionato non credo sia un italiano giusto insieme ad un altro quindi cerchiamo di giocare i tre moschettieri se riusciamo solo nel sudden death con due estrattore di elizir giù eventualmente possiamo anche farcela con un estrattore solo ma saremo noi che dovremmo capire il momento esatto in cui calare i tre moschettieri c'è anche la fuorileggio insieme alla riete che può andare ad aiutare la riete con lo spiritino del ghiaccio altra combo molto interessante gang di goblin orda di scheletri magari gang di goblin orda di sgherry invece vanno semplicemente insieme alla zap ad aiutare tutto il pastrugno che deve crearsi per poter tirare giù la torre al nostro avversario ma andiamo subito a vedere come si comporta questo deck ragazzi in una sfida classica vi ricordo una cosa questo è un deck sviluppato per la sfida grandiosa quindi ragazzi non abbiate paura se dovete fare una sfida grandiosa a provare ad usarlo perché è veramente veramente molto solido qua purtroppo princess e grider hanno la meglio sui nostri sulla nostra povera gang tentiamo qua uno split dei tre moschettieri dovrebbe essere una giocata interessante bella la fireball missata ragazzi bella la fireball missata e questo ci garantisce parecchi danni alla torre andiamo ancora a salvare andiamo ancora a salvare non ce ne frega niente guardalo lì 588 omicidiali riazzati veramente molto bene questi tre moschettieri che ci garantiscono un sostanzioso vantaggio adesso dobbiamo stare molto attenti al miner andiamo con la nostra orda viene zappata ma la zap non ha molta utilità sulle orde maxate ai livelli da torneo in quanto non sciotta tutti gli sgherri e non sciotta neanche i goblin normali c'è ancora lì la torre inferno non posso farmi colpire la fuorilegge che riesco a far caricare fuorilegge che parte va tra giù la torre poi bellissima la tripletta della fuorilegge che va anche sulla torre mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi super fuorilegge in questo frangente veramente cattivissima stiamo attenti di nuovo stiamo attenti di nuovo possiamo azzardare di nuovo uno spirito del ghiaccio e qua si inizia a far sentire ragazzi l'estrattore di elisir vediamo se abbiamo modo di ciclarne un altro lui va con il miner ovviamente andrà sull'estrattore cosa che avrei fatto anche io ma subito via con lorda riusciamo a preservare per qualche altro istante il nostro estrattore possiamo mettere giù anche la fuorilegge vediamo se carica 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 va direttamente sulla torre di nuovo ragazzi fuorilegge micidiale micidiale qua non possiamo fare nient'altro che scaricare una rete di battaglia centrale sperare che no se ne va dalla parte opposta doveva andare da tutt'altra parte ma bene così invece non doveva counterarmelo secondo me non doveva counterarmelo ho potuto così tirare giù la sua princess che mi sarebbe stata di grande difficoltà vediamo se riesco con una zap esatto a fermare e di nuovo sopra lorda di nuovo sopra lorda forza forza orda forza orda ok 402 siamo messi bene 50 secondi alla fine voglio tentare il trucco dei tre moschettieri e lo tenterò proprio in questo momento ragazzi eccolo qua vai 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 lui a scarico dovrebbe andare giù la torre dovrebbe andare giù la torre ragazzi potopopom porotototo no non va giù la torre bravissimo bravissimo lui bravissimo lui 391 è stato molto veloce a tirare la palla di fuoco molto veloce benissimo anche questa torre inferno ci regala altro elisir ci regala altro elisir quindi sfruttiamolo questo elisir che si regala no andiamo di nuovo con lorda disgherri e cerchiamo di fermare il suo hog rider lasciamo pure la gang non mi interessa al momento non mi interessa dobbiamo chiuderla questa partita il più velocemente possibile per garantirci la vittoria vediamo se con la riete centrale ce la facciamo ce la facciamo salvare i lanceri perfetto perfetto andiamo con la prima zap dai 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 che va giù la torre dai che va giù la torre i lanceri tirano e ritirano di nuovo e ancora e siamo arrivati sì a chiudere la partita per noi ragazzi senza estrattori addirittura giù molto molto interessante seppur il deck è da giocare con gli estrattori beh ragazzi il deck è questo che state vedendo in questo momento ve lo dovete segnare lo dovete provare perché sicuramente farete girare molto bene le carte e avrete grandi grandi soddisfazioni bene ragazzi per oggi è tutto la puntata numero 3 dei top deck da usare nelle challenge finisce qua io ti ricordo di iscriverti al canale youtube se ancora non lo hai fatto e di seguirmi nelle live delle 13 45 e delle 21 tutti i giorni tranne i lunedì noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live ciao